Aperto il quinto punto in provincia di Salerno sull'europrogettazione, Infopoint Europa sociale è il punto di riferimento di formazione, informazione e consulenza per i giovani e per chi ha buone idee da realizzare. Eurodesk è un'agenzia importante perché questa è una dei mille punti europei. La rete intranet ci consente di connetterci ai mille punti europei, accompagnare i giovani verso un'informazione corretta che riguarda la formazione professionalizzante e il lavoro credo che sia fondamentale. In questo momento soprattutto di pandemia, momento storico che non abbiamo ancora superato, ma siamo calati all'interno di questo disastro sociale, continuare a perseguire l'obiettivo della formazione e della professionalizzazione dei giovani, io credo che sia importante, dobbiamo guardare il futuro prossimo e dare quelle opportunità educative ai giovani e anche alle persone che non sono più tanto giovani ma che hanno perso il lavoro attraverso quello che l'Europa ci indica, tutti i programmi possibili. Purtroppo i giovani non sono a conoscenza delle opportunità, questo è un luogo che dà la possibilità ai giovani di essere informati in modo corretto. Riteniamo che oggi l'unica possibilità per fare progettazione e soprattutto avere le necessarie coperture economiche e finanziarie sia l'Europa. Per fare questo, affinché non resti una dichiarazione di principio, bisogna saper fare i bandi europei che non è cosa molto semplice. Infopoint Europa Sociale dal 2015 ha questo obiettivo, formare i giovani nella preparazione di bandi europei. Quindi i ragazzi qui troveranno un punto di riferimento vero e proprio? Assolutamente sì, sarà uno sportello come gli altri quattro di informazione e consulenza su bandi, corsi all'estero, abbiamo la piattaforma Eurodesk per i giovani, cerchiamo di essere riferimento per tutte le persone che hanno delle buone idee e cercare di trovare delle start-up che coprino le spese. Ecco davvero un punto decisivo per poter ragionare e costruire il mezzogiorno del futuro, il mezzogiorno che non è fatto di assistenza soltanto, ma è fatto di capacità di cogliere le opportunità per poter dare una speranza di futuro a tante ragazze, a tanti ragazzi italiani e soprattutto al mezzogiorno. È un'esperienza che stiamo facendo oggi, diciamo in questo momento del secondo anno che va avanti, siamo stati lungimiranti sia come amministrazione sia anche a livello personale, perché quando mi è stato proposto Eurodesk ho detto sì andiamo avanti, diamo questa opportunità, perché molto spesso i ragazzi lamentano proprio la non conoscenza delle opportunità, quindi si sentono soprattutto nella fascia di età post diploma, si sentono un po' smarriti, al di là della scelta universitaria, però anche per fare un'esperienza anche semplicemente estiva, fare degli stage pre laurea è una grande opportunità che ti crea curriculum.